Senta Prefetto, è di poche ore fa l'approgazione di questo per i cittadini Super Green Pass. Per Arezzo cambierà qualcosa rispetto alla città del Natale dove arriveranno comunque cittadini anche da altre regioni? Sì, così come è previsto, diciamo dal combinato disposto delle misure che entreranno in vigore dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e dal precedente decreto, per quelle che sono fiere, mercati, manifestazioni come la nostra, sarà richiesto per l'accesso il Super Green Pass. Quindi il Green Pass è rafforzato. Quindi sarà proprio richiesto all'ingresso o chiesto a campione? Sempre col controllo a campione, mentre sarà richiesto per i posti per i quali è previsto l'accesso contingentato, quindi gli accessi controllati sarà richiesto a tutti. Per coloro che invece sono in giro per la città del Natale sarà effettuato un controllo a campione. Serve il Green Pass rafforzato.